Siamo qui davanti a quello che era un tempo il Cisternone, il pozzo grande della cittadella di Torino, costruito alla fine degli anni 1500, proprio per integrare le capacità della cittadella appena costruita per l'abberata dei cavalli. Allora la cavalleria era molto importante nell'esercito del Duca e pertanto c'era la necessità di dare loro la garanzia di poter bere senza dover uscire dalla cittadella. Perché siamo qua? Stiamo facendo una rievocazione storica proprio a ricordare il periodo dell'assedio. Era iniziato il 13 maggio, durerà fino al 7 di settembre, il momento della battaglia vittoriosa dei torinesi. E allora questo periodo che adesso viviamo lo vogliamo raccontare ai torinesi perché si rendono conto della loro storia, di quello che è successo 313 anni fa a un mese dall'inizio dell'assedio. Oggi abbiamo iniziato davanti al mastio della cittadella facendo sparare la nostra artiglieria e l'artiglieria di allora, il cannone del 1700, assieme alla fucileria, assieme al gruppo storico che rappresenta tutti i soldati di allora. Poi in un secondo momento di rievocazione siamo venuti a farlo proprio qui davanti al Cisternone che è uno dei nostri monumenti storici che rievocano quel periodo ma che però si vede pochissimo perché nel tempo, dopo essere stato abbattuto perché non più utile alla cittadella passata l'esigenza, vi è stato costruito sopra una scuola. Oggi qui frequentano i ragazzi delle elementari della Riccardi di Netro e allora non è più possibile riscoprire tutto il Cisternone come abbiamo fatto per le gallerie di Pietro Micca ma attraverso delle introspezioni laterali siamo riusciti ad arrivare fino a 16 metri sottoterra dove c'era questo pozzo grande, pensate, di un diametro oltre i 18 metri dove attraverso due rampe elicoidali sovrapposte scendevano e risalivano i cavalli senza mai incontrarsi per andarsi ad abbeverare a questo lago sotterraneo che era proprio all'altezza della falda acquifera di allora. Lo apriamo pochissime volte all'anno, come ho detto, e lo apriamo proprio in queste circostanze particolari perché i torinesi curiosi possano vedere come sotto la città, pochi metri sotto la città e in particolare nell'area dove prima c'era la cittadella, esiste ancora traccia di quella che era l'antica storia di quello che è servito a difendere Torino, a portarla ai giorni nostri, a creare le condizioni perché noi oggi potessimo essere, nel ricordo di allora, orgogliosi di aver avuto dei soldati che hanno saputo difendere la loro città e sono riusciti a conquistare la loro libertà.